Se hai visto la live dell'altra volta, quando riprende l'audio, ci sei tu che canti Ave Maria. Giuramelo. Non l'hai vista? Bellissimo. Ma tipo per almeno 40 secondi. Ma è un capolavoro, zio. Ci sei tu che vocalizzi Ave Maria. Beh, zio clamoroso. Su Batman poi c'ha senso, molto Nolan. Molto Nolan che incontra Tarkovsky. Buonasera a tutti. Buonasera. Bentornati al podcast più discusso dell'universo podcast italiano. Ma salve! Oggi abbiamo degli ospiti. Oggi abbiamo il pubblico. Il pubblico. Ma il pubblico discute o fa parte della discussione? Ma io direi che il poeta avrebbe voluto un pubblico partecipare nella discussione. Quindi lo chiameremo così oggi lui, il poeta. Mi piace. Sì, oppure Pierpi. Pierpi il poeta. Oppure PPP. PPP. Come lo chiamerebbe... Tommy Paris. Miele. Buonasera Miele. Ciao Miele. Ciao Miele. È bello che Miele è sempre con noi comunque. Allora, voglio partire subito con una richiesta a voi cari spettatori di YouTube. No, non si dicono i nomi delle piattaforme. Della piattaforma rossa. Scrivete nei commenti di cosa vorreste che noi parlassimo. Perché abbiamo finito le idee. Non è vero. Non è vero. Però secondo me voi siete pieni di idee. Soprattutto tu Miele. Sì, Miele ha una lista di idee. Però questo è più per il futuro. Vorrei chiedere a Federica. Ma occhiali o non occhiali? Contando che Pasolini. Cioè, me lo concedi? Metà e metà. Cioè, un occhiale sì e uno no. Sì. Quello sarebbe brillante. Spaccati una lente. Mi dovrei rompere una lente. Sì. Ah, ok. Va bene. Farò così. La scorsa ce li avevi, mi sa. No, ho detto metà puntata. Ah, metà. Ok, ok. Mi fa essere metà. Allora, Pierpaolo Pasolini. Oggi, anzi, i figli di Pasolini. Perché i figli di Pasolini, Andrea? Perché stavamo riflettendo se fare o meno una live su Pasolini e ci siamo detti. Forse fare una live su Pasolini potrebbe rimanere un po' troppo un seminario accademico. Come rendiamo Pasolini pop? Che forse era, mi concedo di dire, una speranza che il buon Pierpi avrebbe avuto per condannare il pop stesso. Di fare una live pop su Pasolini, no? Quindi fare pop per condannare il pop facendo un live su Pasolini. E quindi ci siamo resi conto che dire figli di Pasolini significava dire Pasolini oggi. Cioè, cosa è rimasto dell'eredità di Pasolini? Della eredità negativa e positiva, nel senso che poi Pasolini condanna una certa Italia, promuove una certa speranza. E la cosa che potremmo vedere oggi, attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso i meme, attraverso una serie di elementi della contemporaneità, è degli anatemi, delle condanne invece delle speranze di Pasolini, cosa è arrivato al 2022. Esatto, tu hai parlato d'Italia, però io non, io mi sono scritto già dei figli di Pasolini e so già che ognuno di essi tu dirai, wow, a parte forse uno che non conosci o comunque, cioè là dirai, oh, che è diverso da wow. Cioè che non sono sicuro di saperlo, ma comunque devo far parte della cosa, perché non posso ammettere di non saperlo. Wow, e invece tipo, wow, hai totalmente ragione. Capito. E nessuno di loro è italiano. Invece, inizialmente ammetto di non saperlo, però poi mi rendo conto che ammettere di non saperlo non sia la cosa giusta, e quindi fingo, è tipo, ah! Però là la puoi andare come una sconfitta personale, quindi spero... No, vabbè, se lo fai è perché ti esce, io spero che non ti esca quello. Comunque, i figli di Pasolini, Pasolini, io ho visto Accattone ieri, bomba, che cosa mi è rimasto di Accattone? Che è il primo film di Pasolini. Che è il primo film di Pasolini, l'esordio di Pasolini, molto discusso. Diciamo subito una cosa, il fatto che Pasolini, che è un poeta, scrittore, intellettuale, prima di fare il regista, quindi già si afferma come scrittore, entra nel mondo del cinema in un momento delicato per il cinema, il 61, è il film d'esordio di Pasolini, lo porta a una determinata situazione, che poi è quella a cui tutti associano Pasolini. Ecco, no, voglio partire da questo. Se tu cerchi Pasolini su Google, ti esce Pasolini morte. Ok, tutti collegano direttamente Pasolini agli eventi finali della sua vita, alla tragicità della sua fine, e a tutte le teorie complottistiche di cui io sono sostenitore, fan, ne parleremo verso la fine della live, però comunque non è questo il punto, questa live parlerà principalmente del valore cinematografico, ma anche letterario e artistico, di forse il più grande intellettuale italiano del Novecento, ma sicuramente il più discusso, sicuramente il più... Esatto, questo è già un bel primo tema, zio, cioè Pasolini, a differenza di Fellini, a differenza di Antonioni, non arriva al cinema come prima vocazione e soprattutto facendo anche un po' la gavetta tecnica del cinema, cioè Antonioni fa il centro sperimentale, fa documentari, fa un sacco di sperimentazione tecnica dell'arte cinematografica e poi fa cinema. Fellini fa l'assistente per Rossellini, scrive sceneggiature, scrive per giornali legati al mondo del cinema e quindi arriva anche lui, con un certo possesso della tecnica cinematografica, a fare cinema. Pasolini arriva al cinema come intellettuale, cioè non arriva al cinema come tecnico del cinema, Pasolini non sapeva tenere una camera in mano e potenzialmente fino alla fine della sua carriera non l'ha mai davvero saputa tenere nel senso tecnico, nel senso di valutare gli istogrammi, la fotografia, l'inquadratura in un senso tecnico. Pasolini imponeva e importava nel cinema una sua visione intellettuale, quindi aveva delle grandissime maestranze al suo seguito, aveva dei team pazzeschi di quell'Italia, di quella cinecittà che veramente si popolava di maestri del cinema, anch'essi un po' appartenenti a quella Roma. Sai chi era l'aiuto regia in Accattone? Bertolucci. Bravo, un giovane Bertolucci. E Fellini era la parte della produzione fino al primo giorno di riprese, in cui disse questo non è cinema e se ne andò. Stupendo. Poi parleremo del dibattito Pasolini-Fellini, zio. Sì. Sì. Ricordati che nella nostra prima live io ho detto la frase, Pasolini diceva Fellini che la Dolce Vita era un film cattolico. Tra l'altro la Dolce Vita e Accattone sono due film praticamente contemporanei e che parlano della stessa città, però in due modi opposti, completamente diversi. E Accattone di cosa parla se non degli ultimi, dei reietti della società? Che poi è un tema di tutto quel cinema lo-fi che io amo tanto e quindi in realtà sicuramente tu potresti già provare, o comunque voi da casa, a indovinare quali sono per me i figli di Pasolini. Parto da uno che secondo me lo è, non più di altri, però per Accattone sicuramente un collegamento immediato è del Lars von Trier. In particolare Dogma 95. Beh sì. È quella fase. Anche il discorso della Medea. Poi si potrebbe fare un discorso anche sull'Ars von Trier di Antichrist, il Lars von Trier più recente, che in qualche modo tenta di scandalizzare la borghesia del cinema europeo, ma anche americano, perché in realtà il Lars von Trier ce l'ha con gli americani. Sì, esce comunque in sala in America. Sono penso produzione americana i suoi film, Antichrist comunque con Willem Dafoe, Christian Stewart, mi sa, vabbè. E comunque cerca di scandalizzare, non nello stesso modo in cui lo faceva Pasolini, Pasolini, cioè qualcosa di molto più classico, più legato alla cultura. Beh sì, quello che sei dicendo è interessante, nel senso che ci sono, secondo me, figli di Pasolini che hanno preso dei pezzi di Pasolini. Anche Bertolucci prende la dimensione erotica dal cinema pasoliniano, però Bertolucci ne fa una questione individualista. A parte poi nelle sue opere storiche come Novecento e L'Ultimo Imperatore, per esempio in Ultimo Tango a Parigi, Bertolucci prende la quintessenza di un erotismo assolutamente acritico e aetico, cioè quell'eros che non si riflette nell'etica della società borghese e della società familiare, e lo porta però non al concetto di famiglia, come magari Pasolini ha fatto in Teorema, ma lo porta al concetto dell'individuo che si autodistrugge in quel rapporto ero-stanatos che tanto ci piace se leggiamo Freud, attraverso la distruzione dell'altro, nel rapporto Marlon Brando e la protagonista del film, Maria Schneider. Però sì, penso che Pasolini appunto arriva come un poliglotta della intellettualità, cioè è poeta, è scrittore, è critico, è colui che va in televisione, perché non ti dimentichiamo che la televisione italiana dell'epoca è una televisione dove Pasolini va, dove Pasolini può parlare col suo linguaggio, cioè era una televisione dove non succedeva che Cacciari andava in televisione, aveva un minuto di intervento e finisce a urlare, a volte anche a svalutare se stesso, contando che io stimo Cacciari come intellettuale, più che come protagonista televisivo. Pasolini arriva, gli chiedono cosa ne pensi della famiglia italiana e ti risponde in 15 minuti, quindi c'è una televisione che concede gli spazi di un certo tipo e una coerenza anche linguistica di un certo tipo. Ma perché Pasolini decide di andare in televisione? Perché Pasolini è un borghese, cioè il punto chiave qua è che bisogna distinguere Pasolini uomo da Pasolini intellettuale. Pasolini si definisce una persona appartenente per una questione meramente socio-economica e storico-familiare alla dimensione della medio-borghesia, cioè Pasolini non nasce nel sottoproletariato, Pasolini non è un figlio di quella Roma di Borgata. Però la TV di quel tempo non è tanto per la borghesia quanto per il popolo. Sì, ma è una borghesia intellettuale, cioè nessuno dell'intellettuale italiano è mai stato davvero un proletario. Prendi Fellini, prendi Antonioni, prendi Calvino, prendi Pasolini, sono tutte figure che appartengono più o meno a uno strato di medio-borghesia che però si impegnano in una forma coerente e onesta a condannare una certa condizione politica, sociale. Ma sai, più che condannare quello che fa Pasolini è rappresentare. Poi sì, in una seconda fase condanna, però all'inizio si limita alla rappresentazione. Sì, ma fa film per... Cioè alla fine in Accattone sono tutti attori presi dalla strada, dalle borgate romane che interpretano loro stessi. E in questo, anche in Mamma Roma, c'è una dimensione che mi ricorda molto il cinema di Griffi. E qua andiamo al secondo figlio. Anna di Griffi e Mamma Roma di Pasolini sono due film che hanno tantissime similitudini. Sia in come sono stati realizzati, sia nella rappresentazione di una figura femminile che all'epoca scandalizzava. E la donna non poteva essere rappresentata in quel modo, era più un personaggio maschile che poteva subire quel tipo di processo, quel tipo di narrazione del personaggio che lo porta a toccare il fondo e poi risalire. E invece loro scelgono una prostituta, in entrambi i film è una prostituta, la protagonista, romana, che dal disagio poi trova dei momenti di poesia. Infatti non a caso in Giulietta degli Spiriti di Fellini, dove anche ella è una prostituta, Pasolini partecipa alla sceneggiatura, scrive parte della sceneggiatura di quel film. Che forse Fellini gli riconosceva una capacità di rappresentare... Sì, quella brutalità realista che anche... Cioè, vedi, è bellissima sta roba, zio. C'è Roma negli anni 60, una serie di intellettuali arrivano a Roma e la adottano, perché anche Fellini nel romano, Pasolini nel romano, molti non sono romani. Arrivano a Roma e la adottano. La adottano perché Roma è un po' il disvelamento di un'Italia che sta raggiungendo il suo apice poetico-estetico, ma che sta già svelando tutte le sue menzogne, sta già corollando in tutte le sue bugie di un'Europa che sta morendo, morendo nel suo stesso idilliaco momento di ricchezza. Sta morendo perché non sta educando le nuove generazioni a un'attività politica sana, sta morendo perché sta facendo del capitalismo il suo punto, potremmo dire due ore su questa roba qua. Però il punto è che c'è questo momento di apice, di una babele che è Roma, che è pura bellezza ed è pura inquietudine allo stesso tempo. E ognuno la racconta in modo diverso. Felina racconta attraverso un percorso propriamente personale e egocentrico, però mitologico nella sua capacità narrativa, in cui va a svelare tutte queste dimensioni del soggetto in quella Roma che viaggiando nel suo mondo, nella sua fantasia erotica, nella sua fantasia egocentrica, eccetera, si perde, si ritrova, si perde, si ritrova. Pasolini invece arriva a quella Roma, la adotta anche lui, però non vuole parlare del soggetto in quanto soggetto borghese intellettuale che arriva nella città e fluttua nel bene e nel male di questa meravigliosa, come in latino si dice mostrum, che vuol dire sia meraviglia che mostruosità. No, non vuole quello, ma vuole raccontare neanche il proletariato, ma il sottoproletariato, che è una cosa diversa. Tant'è che c'è una domanda che un giornalista ha fatto a Pasolini, Totò è un artista del sottoproletariato? E Pasolini risponde, Totò come uomo è un piccolo borghese, medio, cioè proprio lo dice brutalmente, figura di Pasolini, però come attore, come maschera, rappresenta il sottoproletariato napoletano. Ma qual è la differenza tra proletariato e sottoproletariato? Che in teoria, in un'epoca in cui al comunismo ci si credeva ancora, Pasolini, cioè il proletariato, e sono coloro i quali, in teoria, hanno consapevolezza del loro sfruttamento e quindi potranno fare una rivoluzione nell'ottica marxista. Il sottoproletariato, invece, persino Marx, in qualche modo ci si accantona un po', perché il sottoproletariato è la totale perdizione di qualsivoglia speranza o consapevolezza intellettiva critica che possa smuovere gli animi verso chissà quale rivoluzione. Il sottoproletariato è il caos degli ultimi, degli abbandonati, ma degli abbandonati che non provano a salvarsi, degli abbandonati che rimangono in ciò che è. E in Accattone, e questo è geniale, Pasolini ritrova Gesù Cristo nel sottoproletariato, perché Accattone, alla fine, ha un percorso cristologico. Ma no, che palle. Che palle. Lo sai che Gesù Cristo è anti-americanità, sono punti chiave del nostro podcast. E questo penso... Accattone non è Gesù Cristo, perché ruba dall'inizio alla fine del film. Non che è Gesù Cristo. Ruba suo figlio. Cioè, letteralmente, a un certo punto... Mi passi il tabacco. Gesù non fa mai niente di negativo nel Nuovo Testamento. Cioè, fa solo cose positive. Sì, nelle sue parabole è vero, però il punto è che i vari Gesù, perché c'è un botto di Gesù nei film di Pasolini, quasi tutti sono Gesù. A questo punto puoi dire che è Ulisse. Cioè, perché è lo stesso discorso. Beh, no, zio, perché lui alla fine è... Cioè, il punto del Gesù Cristo di Pasolini è che è proprio il martoriato dal mondo, il martire di un'esistenza fallita, di una società condannante, no? È il Gesù Cristo della Via Crucis, quello di Pasolini, quello che si becca le mazzate da tutti, perché in realtà nessuno ha il coraggio di accoglierlo, nessuno ha il coraggio di abbracciarlo, e lui si immola per un popolazione che era quella giudaica e poi successivamente cristiana, che in realtà nessuno considerava all'epoca. Questo è il sottopraletariato di Pasolini. È la popolazione totalmente ignorata dalla società che ha questi eroi, ovviamente, non mitologizzati e parabolizzati come Gesù Cristo, ma ha queste figure eroiche totalmente distruttive, totalmente perdute, che però hanno dei percorsi di martirio in un qualche bizzarro modo sincero. Cioè, il cattone, fra la fine, è un personaggio sincero nella sua menzogna, nella sua mediocrità, nella sua sporcizia. Cioè, è quel tipo di umanità che almeno non ha livelli di finzione e di speranza di mostrarsi migliori o di educare una società borghese a chissà quale risultato del cazzo. Cioè, questo è un po' il tema. Non so se sei d'accordo, Federica. Io sono d'accordo. Parzialmente. Inizialmente non lo ero, però con la roba della Via Crucis mi ha mezzo convinto, perché io penso sempre a Gesù, come moltiplicatore di pesci. No, però... Mi passi un figlio. Il discorso assurdo di Pasolini nella sua attualità. Cioè, una cosa, soprattutto del primo periodo, una cosa che non ti aspetti magari da un autore che fa il Decameron o comunque fa delle opere che vanno a riprendere classici quasi medievali, e li rivisita comunque in un ottimo il Porcile. Il Porcile è un film folle, perché unisce una dimensione completamente astratta da... Cosa vuoi? L'accendino? C'è l'accendino. L'accendino, c'è l'accendino, c'è l'accendino. Pasolini, 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 Pasolini. Riesce a creare questa dimensione di quest'uomo che vive sul vulcano che non ha nessun tempo, nessuna dimensione storica. E poi questa famiglia borghese dove c'è questo figlio che vive questo... Non saprei come definirlo. Momento di passaggio sessuale. E riesce comunque a toccare delle corde che sono intrinseche nella nostra cultura italiana. Cioè, c'è qualcosa di Pasolini che, proprio nell'immagine, riesce a toccare delle corde quasi di infanzia, perversa. Non so come... Ti ricordi quando guardavamo Rete Capri? In camera mia da piccoli. Oh mio Dio, scoprivamo la sessualità. Per me è quello e Pasolini. Per me è quello e Pasolini. E guardare Rete Capri alle due di notte mio padre che entra e noi che fingiamo... Mio fratello col telecomando. Tu fratello? Poi ti chiedi perché tuo fratello è cresciuto così? È chiaro, zio. Era con noi in quei momenti. Troppo piccolo per vivere quell'iniziazione. No. Piano piano, piano piano. Una cosa alla volta. Lentamente nel corso di questo podcast rilasceremo una serie di dichiarazioni sulla nostra vita, però... Una alla volta. Questa cosa non l'avevo preparata. Mi è venuta così. Effettivamente, ecco... Cioè, questo intendo. Cioè, Pasolini è quasi... una cosa che fai di nascosto ai tuoi genitori. E lui ha un'attrazione nei confronti di... di quell'universo un po' nascosto, un po' underground che ritrova un botto in un regista che è Gas Van Sant. Terzo figlio. Terzo figlio. Ok. Gas Van Sant oltre al fatto che i suoi protagonisti sono sempre delle persone fuori dal mondo, comunque degli outsider. Da Matt Damon... No, Matt Damon... Sì, Matt Damon che è un genio in wheel hunting che è un genio ma in realtà fa il bidello ed è comunque un outsider. Ha My Own Private Idaho che è proprio perfettamente rappresentativo di... Elephant. Elephant è un film che secondo me dal punto di vista del linguaggio è molto pasoliniano. Sono d'accordo, lo sai. Perché rappresenta qualcosa di assolutamente violento e che il 99% dei registi americani avrebbero rappresentato in maniera completamente diversa in un modo assolutamente poetico, dolce, leggero. Cioè questi piani sequenza infiniti nei corridoi. In cui è tantissimo nell'essere così. In cui è tantissimo se sai cosa... Cioè... Tu devi pensarlo come... Un regista fa un film pensando alle persone che lo vedranno in sala. Non lo pensa dieci anni dopo dei ragazzi in un podcast ne parleranno. Quindi in realtà tu quando vai a vedere il film non sai della Columbine... Cioè lo sai che è successo però non sai che quel film parla della Columbine che si chiama Elephant perché non te lo fanno capire. Ed è un po' tipo Pumped Up Kicks che usa un tono... Legge la canzone, no? Ha un testo che parla della stessa identica cosa della Columbine però usa un tono che non ti aspetti. e quindi ti colpisce quando poi scopri la verità se sei americano ascoltando il testo se no poi andando a leggertelo. Ti propongo io ora un figlio di Pasolini. Vai. Ti dico due robe. La prima è rispetto a quello che dicevi prima l'ultima intervista che rilascia Pasolini che poi c'è nel film con William Defoe la rilascia a Le Figaro a un giornale francese parlando di Salò delle 120 giornate di Sodoma che è il suo ultimo film e lui dice io sono un perverso. Cioè il suo punto è proprio quella roba lì che stai dicendo tu. Cioè io sono il nascondiglio delle perversioni. Sono il nascondiglio dove noi abbiamo rigettato la nostra dimensione erotica la nostra dimensione irrepressa. Freud diceva in cambio di un po' di sicurezza abbiamo barattato la nostra felicità in disagio delle civiltà. Cosa intendeva dire? Intendeva dire che abbiamo creato una società pseudoetica pseudo-regolamentata pseudo-ordinata reprimendo completamente la componente erotico-sessuale e rendendola perversa. Cioè il perverso esiste in una società in cui l'erotismo non è libero. In una società in cui l'erotismo è libero la perversione non esiste più nel suo senso dispregiativo. La perversione diventa azione creativa erotica. La perversione come la intendiamo noi quindi come gesto nascosto inquieto che va giocato nell'ombra che non va detto esiste in una società che ha imposto una regolamentazione. E l'altra cosa è è presente quella roba che fa Criterion Collection di chiedere ai registi di scegliere i DVD? Sì. Fighissimo, no? Gaspar Noè quando va lì uno dei film che prende è Salò o le 120 giornate di Sodoma. Cioè Climax e le 120 giornate di Sodoma per quanto le 120 giornate di Sodoma ha uno scopo completamente politico contro il potere coercitivo contro il fascismo e tutto il resto e invece probabilmente in Gaspar Noè c'è di più un inno proprio alla perdizione erotica afinalistica anarchica cioè è una fase di un'epoca diversa cioè noi viviamo in un tempo chi lo vuole chiamare postmodernismo io non lo amo come termine però per dire comunque c'è un'azione ormai non più di scontro consapevole con la società politica ma c'è proprio una tendenza quasi nichilista nel momento contemporaneo quindi è vero che Gaspar Noè forse non ha quella finalità esplicita però c'è quella forma di narrazione proprio dell'estremo come forma liberatoria distruttiva impossibile realizzata cioè il cinema di Gaspar Noè è impossibile ma reale interessante sai che non ci avevo pensato perché Gaspar Noè perché non ho ancora parlato di una cosa importante in realtà che è l'estetica perché Pasolini da punto di vista estetico è molto lontano da Gaspar Noè Gaspar Noè completamente espressionismo francese estremismo quindi porta proprio delle immagini che sono irreali trip allucinogeni ma anche quando è reale comunque ma io Enter the Void per me è il film di Gaspar Noè perché è un capolavoro oggettivamente è tutta la ricostruzione delle città della miniatura cioè quello è è un livello così high-fi che è non avevo minimamente collegato le due cose però effettivamente climax o comunque la rappresentazione del le perversioni e l'animal lo spirito animalesco dell'uomo tutto quel momento dell'abuso è vero ha completamente un'azione pasoliniana un'azione proprio di rottura e di sguardo a quanto un uomo che si vede una scena di un abuso di mezz'ora e ovviamente la rifiuta eticamente allo stesso tempo la subisce eroticamente con questo non intendo dire che una persona possa provarne piacere ci mancherebbe è una cosa totalmente sbagliata però va a toccare delle corde di incontrastato di non detto che è un po' Sodoma cioè Salò è un film dove fondamentalmente ci viene mostrato qualcosa di orrido inaccettabile perverso eppure c'è una nostra strana e malata fascinazione verso questa cosa che non è perché a noi piace quella roba lì è perché ci tocca delle corde a cui noi non siamo abituati a parlare però forse un po' ci piace perché se vai a vedere i telegiornali comunque in generale anche i gruppi telegram c'è della perversione ma la gente cerca il gore quindi le immagini comunque di morte o di incidenti quando c'è un incidente vedi la coda delle macchine che rallentano per guardare è nella natura umana perché è una cosa che non appartiene alla nostra quotidianità alla nostra realtà non è da condannare è scandalo essere scandalizzati è un piacere è una frase di Pasolini essere scandalizzati è un piacere però voglio farti riflettere su una roba secondo me i primi film di Pasolini ieri ci pensavo guardando a Cattone i primi film di Pasolini sono Dogma 95 totalmente cioè se fosse esistito il movimento totalmente perché non c'è nessuna e sono ambientati nel luogo e nel momento in cui sono girati gli attori non sono attori non ci sono armi non c'è violenza inutile c'è violenza ma è violenza reale utile per la trama plausibile concreta descrittiva e tutto non c'è musica extra diagetica se tu prendi le onde del destino di Montrier è un altro film che riprende totalmente la dimensione dell'autodistruzione è veramente quasi martire lei che ha il marito che è diventato praticamente paraplegico e pensa di dover subire degli abusi come rivendicazione cristologica pure lei della sua santità però si fa abusare è quella dimensione in cui arrivi a un tal punto di voler sacrificare te stesso per l'altro da annichilirti in dei modi fuori di testa il primo Montrier è anche Vintenberg Celebration esatto feste esatto a parte la storia lì c'è anche un po' di moelle c'è anche un po' di una certa forma ma la storia del ragazzo che va alla cena la storia è molto semplice lui che va alla cena di famiglia per il compleanno del padre e durante la cena dichiara a tutti di essere stato abusato sessualmente dal padre quando era ragazzo già questa storia è molto pasoliniana sì ma nel senso è un personaggio pasoliniano in un certo senso sì però ora che stai parlando di questa cosa mi viene in mente un tema cioè questi registi che stiamo citando Montrier Gaspar Noè Vintenberg Gasvan Santo sono già più sull'individuo forse a Grifi lo conosco meno di te quindi sicuramente tu puoi dirvelo molto meglio però tutti gli altri sono già in un'epoca in cui il cinema si è spostato molto di più sull'individuo anche nella coralità che può avere un climax comunque sono individui smarriti anarchici e collettivi in una forma puramente erotica in Pasolini c'è ancora una questione davvero intellettuale davvero davvero personaggio della polis della società in cui sta vivendo politica societaria antiborghese ma allo stesso tempo vittima di una consapevolezza che la borghesia è sempre più pervasiva quindi forse l'unica differenza che manterrei è che in Pasolini un'autodistruttività come può essere il concetto dell'abuso non è mai per rivendicare la devastazione di nuclei e di soggetti perduti ma è sempre con uno scopo più simbolico e metaforico verso la società stessa cioè gli abusi che ci sono in Salò non sono abusi al soggetto e ai nuclei dispersi ma sono abusi alla società mentre gli autori di cui stiamo parlando parlano di più dell'individuo banalmente perché siamo in un tempo in cui l'individuo ormai ma anche perché banalmente non hanno minimamente la stessa caratura intellettuale comunque culturale di Pasolini cioè Pasolini aveva un intento che andava al di là del cinema il cinema per lui è un mezzo per arrivare al popolo esatto perché il suo libro ragazzi di vita non se ne ha cagato nessuno perché nessuno sapeva leggere questa è la verità zio cioè il cinema all'epoca era il mezzo del popolo quindi vedeva la dolce vita e diceva io voglio fare il mio film con i miei ragazzi di Borgata mi posso accendere un perforo di solito lui fuma l'Aikos quindi non c'è questa roba dell'accendere oggi però ho perso le sigarette hai perso le Aikos cioè le Izz quelle che si usano per l'Aikos dovrebbero sponsorizzarci sì infatti dovrebbero tra l'altro a cattone è disponibile su Mubi se vi interessa che è una gran piattaforma che non è ancora non è ancora così grande no no è grande nel senso qualitativo e non quantitativo potrebbe migliorare secondo me sponsorizzando una certa un certo podcast che parla di film che sono sulla loro piattaforma ok sono d'accordo in realtà comunque Tommaso Peris ha scritto un grande articolo su su Pasolini che è uscito oggi per la settimana ma non solo ho letto ho fatto anche degli screenshot avevo fatto una storia a Instagram però poi l'ho cancellata perché che sono insicuro zio fondamentalmente ok è bello che lì tanto ti riporti la verità su te stesso a proposito Tommaso Tommaso Peris ha scritto un articolo che inizia con la parola Comizzi per quell'opera che è Comizzi d'amore di Pasolini che secondo me vale la pena soffermarci un attimo su quella perché Pasolini ha fatto una roba pazzesca zio cioè lui è andato in giro per l'Italia a fare domande a persone tendenzialmente di estrazione proletaria ma in realtà non solo cioè al popolo al popolino è quello che fa fanpage pochino perché ho visto un video di fanpage che va dagli studenti italiani a chiedere se sanno chi è Pasolini però sei un genio ok sì possiamo dire che fanpage vabbè non posso dirla questa cosa non la dico Comizzi d'amore rappresenta il tentativo di Pasolini secondo me di capire a che punto è la consapevolezza familiare amorosa erotica matrimoniale insomma lui aveva capito una cosa Pasolini che fondamentalmente io credo sia uno dei punti chiave Pasolini aveva capito che la società familiare italiana stava cambiando cioè la famiglia come nucleo di partenza per la fondazione di una società che è una roba che mille filosofi hanno detto da Hegel a Marx e compagnia bella stava cambiando cioè la famiglia è profondamente patriarcali nei suoi sensi anche più dispregiativi di nuclei ampli di nonni bisnonni tutti che vivono in una verticalità della stessa casa eccetera si stava sempre più andando verso le famiglie nucleari famiglie piccole famiglie tendenti alla perdita della loro solidità anche per giuste rivendicazioni della femminilità ma anche per una perdita proprio di una forma di essere succubi di quell'etica della famiglia e quindi di voler rivendicare delle robe e lui va a chiedere alla gente sta roba e lì c'è quella roba che abbiamo messo nel reel di oggi ad Ungaretti dove fondamentalmente lui pone delle domande ad Ungaretti per porre una domanda in realtà all'intellettuale stesso italiano cioè che cosa deve fare l'intellettuale in Italia oggi deve scandalizzare deve rompere deve avere il coraggio di distruggere ora questo rispetto ad Amadeus tu come lo vivi ce lo vedo Pasolini apposentare Sanremo 2023 ce lo vedi tipo un ologramma di Pasolini che fa tipo Ricky Gervais I go the club e inizia a sparare merda su su tutti cioè non credi che le figure il tema è che la società non è cambiata cioè la società che descrive Pasolini è la cazzo di stessa società e noi secondo me ci illudiamo di essere diversi come generazione dalla generazione dei nostri genitori ma fondamentalmente siamo vittima delle stesse sono diverse perché ci sono i social network ci sono delle cose che Pasolini non poteva prevedere però queste cose hanno soltanto un effetto di amplificare determinate condizioni eh io quello credo sia il tema c'è perché in una società che potenzialmente ha nella nostra generazione una forma di riconoscimento della fragilità del nichilismo della rottura con le forme nel suo senso anche negativo forme di imposizione di un percorso lavorativo borghese capitalistico forme di imposizione di una familiarità in cui appunto si rivendica un annichilimento del soggetto tutte queste robe qua noi che siamo la prima generazione forse che ha questa consapevolezza in maniera proattiva perché nella nostra generazione non ci sono intellettuali che vanno in televisione a parlarne e invece una società così repressa perché quando lo fanno vengono distrutti tipo vedi le sardine ma per dire però quello non è un esempio sano secondo me zio perché oggettivamente sono stati perché è ovvio che se tu vai a cercare del marcio troverai del marcio in tutto eh ma il punto zio che il coraggio di Pasolini ed è questo che io vorrei veramente dire se tu ti metti a cercare della merda su Frank Matano la trovi il vero coraggio di Pasolini ed è questo che io vorrei giusto un istante proprio come dedica ad amore perché è un personaggio che io amo tantissimo cioè Pasolini aveva il coraggio di essere marcio cioè Pasolini non ha mai rinnegato il suo essere un perverso infatti vedi cosa infatti vedi che vita ha vissuto 38 processi il suo film a cattone è stato il primo film a essere censurato in Italia e poi è stato anche vietato ai minori 18 nonostante gli avessero tagliato una marea di battute cioè tipo non potevano dire la parola vergine perché nel 61 sì sì se vedi Binde Riccardos che è un film candidato agli Oscar c'è la questione che lei non può non può fare non possono parlare siamo negli anni 60 nei 50 americani del fatto che lei sia incinta cioè parliamo di una società che non permette a una donna incinta di essere incinta come personaggio di una serie tv pazzesco oggi paradossalmente uno può dire di tutto però allo stesso tempo non ha il coraggio di scandalizzare e questo è il paradosso della nostra generazione che noi siamo teoricamente liberi di dire tutto ma non siamo in Italia perché in realtà non è così all'estero all'estero ci scandalizziamo infatti un sacco per Eric Andre però sempre la commedia perché la verità è che ormai c'è questa strana cosa che se tu devi dire delle cose scomode le dici ridendo Luca e Paolo sono i personaggi più controversi del momento cioè per dire che sono dei comici perché ormai soltanto un comico può dire non si ha il coraggio di dirli in maniera in maniera poetica chi è l'unico che è Cozzalone fa per quanto limitato nella comicità rispetto ai tempi comunque è l'unico che fa una non parlo di Sanremo parlo di film è stato pessimo a me è piaciuto tipo quello quando arrivo con il mio caicco cazzo quanto ero poco ricco ok vabbè non parleremo di questa cosa di Cozzalone perché io non l'ho amata sinceramente sì perché quello non c'entra niente esatto in altri momenti è stato molto più molto più brillante però comunque e tu hai detto la cosa giusta cioè solamente ridendo si può dire la verità scandalosa che però è una è una debolezza no oggi non che si possa in assoluto e in Italia come la si dice però in America è ok ma è questo il tema cioè in Italia invece oggi come si scandalizza scandalizza non nel senso estetico e vuoto della parola ma nel senso proattivo a una riflessione culturale sociale lo cerca però non con una finalità creativa per ora lo cerca spesso con una finalità distruttiva cioè noi siamo un po' nella mitologia del fallimento secondo me cioè noi abbiamo reagito a quella mitologia dell'eroe vabbè torno sempre sui miei temi preferiti del cinema americano anche negativi ovviamente abbiamo reagito alla mitologia del successo vincolante del o l'eroe riesce sempre oppure basta una volta ed è uno sfigato abbiamo reagito con la mitologia del fallimento cioè oggi abbiamo una narrazione dove il personaggio che ci affascina è il personaggio che è destinato a fallire vedi Deadpool vedi Euphoria anche se il finale di Euphoria vabbè ora non spoiler tu stai dicendo cose interessanti no è vero è vero però l'America è un conto perché io faccio il culturale ad oggi quello che è scandalizzato quello che c'entra il scandalo su per attraire il fatto il comitato esatto e non per poco esatto però secondo me c'è molto c'è però io credo che il tempo di Pasolini fosse il tempo dello scandalo necessario per decostruire il nostro tempo è il tempo del posizionarci nello scandalo per ricostruire sarò un po' un po' sognatore un po' però io credo che sia quello il punto cioè Pasolini doveva scandalizzare doveva decostruire una serie di archetipi etici eccetera eccetera noi invece c'è che abbiamo già un'amalgama nichilista autodistruttiva e fallimentale quando esce a cattone per dare conferma a quello che dici tu quando esce a cattone l'Italia ha fatto il 18% del PIL cioè il suo PIL è aumentato del 18% cioè è stato l'anno del boom economico il 60 il 61 quindi era un periodo in cui oggi siamo in un periodo in cui c'è una crisi economica che va avanti dal 2009 quindi sono quasi 13 anni di crisi economica e stiamo entrando in una guerra quindi probabilmente per altri 20 anni ci sarà ancora questa situazione quindi Pasolini oggi è attualissimo però non è l'eroe di cui abbiamo bisogno in realtà cioè paradossalmente noi avremmo bisogno di qualcuno che costruisca esatto che demolisca esatto è stato quello che penso anch'io interessante cioè noi avremmo bisogno di capire Pasolini per in qualche modo anche un po' salvarlo cioè per dirgli Pierpi ora noi abbiamo capito quello di cui tu parlavi 50 anni fa siamo nella fase in cui però dobbiamo ricostruire altrimenti continueremo a demolire fino a che demoliremo noi stessi che è quello che siamo finiti a fare sai chi potrebbe averci trovato che secondo me è l'altro figlio dei Cohen l'altro figlio vabbè i fratelli Cohen ora te la dico sicuramente la cosa più basic è la questione dialettale cioè Pasolini fa un lavoro sulla lingua in Accattone c'è tutto viene presa proprio una figura che si occupa di controllare che sia rispettato il dialetto romanesco bla 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 i Cohen fanno la stessa cosa con gli accenti delle località americane dove Fargo se te lo vedi in lingua originale c'è proprio un lavoro sugli accenti anche la serie in generale a i Cohen viene riconosciuto molto un lavoro su quel discorso puramente geografico comunque che però ci sta perché vai a preservare una cultura e comunque a dare valore a questo a dire questo non è sbagliato non c'è una cultura unica il discorso di Pasolini ma ci sono tante culture e ogni cultura ha un suo valore la cultura napoletana di Bari Vecchia ha lo stesso valore di Verdi semplicemente sono due forme di cultura diverse e entrambe vanno rispettate quindi vanno preservate però nei Cohen c'è anche un discorso sempre degli ultimi c'è un discorso di ricostruire forse quindi c'è anche un andare oltre però ci sono anche un sacco di differenze ovviamente per il fatto che sono new yorkesi si zio perché poi l'America è un tema è un bel punto quello che hai portato a me più a me io lo sa ecco che penso che poi l'autore americano che più fa sta roba è Paul Thomas Anderson cioè Magnolia è il film dei nipoti del sogno americano cioè noi dovremmo iniziare a capire che noi siamo i figli di Pasolini nel senso che siamo coloro che hanno un'eredità decostruente ma che possono finalmente ricostruire come ha fatto Paul Thomas Anderson cioè Paul Thomas Anderson in Magnolia ti fa un film dove ti racconta i protagonisti del sogno americano le loro distruttività le loro perversioni vedi il conduttore del programma che poi ha fatto una serie di cose terribili e torna anche lì il tema dell'abuso i figli del sogno americano anzi loro sono già i figli del sogno americano scusami il conduttore è quelli quindi già queste figure che hanno preso il sogno americano nei suoi lati più incubeschi cioè più inquietanti i nipoti sono il poliziotto lei queste figure già devastate quindi non Travis Bickle ma il figlio di Travis Bickle di Taxi Driver che in qualche modo fanno i conti con un'inquietudio ormai già esposta quindi non un cinema che deve esporre l'inquietudine come ha fatto Taxi Driver che ti risponde al sogno americano io ti porto Taxi Driver ti porto l'antitesi ti porto il fallimento del viaggio dell'eroe in ogni suo senso il figlio è colui che già nasce in quel fallimento già nasce in quell'incubo e dice ok io come mi immagino felice io come faccio a ritrovare nell'altro in me stesso una fiducia una fede ma non cattolica una fede proprio verso la vitalità verso la possibilità di esistere io penso che i coin in questo giocano un po' hai ragione ce lo fanno ma comunque sono ancora molto nichilis come si chiama lui il grande Lebonski è un film dove il protagonista fluttua fluttua proprio una società che non sta capendo più un cazzo e quindi vola sogna perché tanto sì non è quello no ma anche non è un paese per vecchi è ancora un film che ti sta demolendo una società che ha ucciso i giovani cioè non è un paese per vecchi ma mica è un paese per giovani cioè il titolo non è un paese per vecchi è un bellissimo gioco di paradossi c'è chi è che vivono i vecchi ma vivono i vecchi perché muoiono i giovani cioè non è così chiaro in realtà il titolo non l'ho mai capito e beh zio perché alla fine chi sopravvive non è un paese per vecchi sopravvivono alcuni vecchi muoiono alcuni vecchi cioè il tema è che non è un paese in cui si può più invecchiare perché tanto ormai è tutto crollato cioè io l'ho sempre visto un po' così forse secondo me non è un paese per vecchi ah è un capolavoro cioè ma devo smettere di usare la parola capolavoro questo mi stai influenzando tu è un grande film è un po' della parola capolavoro è oggettivamente un grande film però c'è altra roba è Barton Franklin hai visto Fratello dove sei Fratello dove sei neanche Fratello dove sei è molto è pasoliniano mi sembra un po' assurdo dire questa cosa però sì perché è l'odissea però fatta con questi carcerati americani che scappano proprio riprendono le sirene in realtà sono altri personaggi cioè proprio riprende la struttura dell'odissea quindi in qualche modo riprende il classico però lo traspone e c'è George Clooney che fa tutto l'accento texano tipo è una mia a me comunque i primi film ma anche Lady Killer Lady Killer è vero ha degli strani ottimismi il punto è sapere essere ottimisti nel fallimento cioè un po' quello il tema che non vuol dire far finta che il fallimento non esisca cioè penso che la fase la terza fase sia non ribaltare il fallimento col successo ma stare nel fallimento è sempre quello il tema è sempre eternal sanction of the spotless mind cioè è lui che la guarda e dice ok mica ha detto da ora in poi vivremo felici e contenti da ora in poi tutto risolto da ora in poi le nostre nevrosi non esistono ma è dinnanzi a una decostruzione di questa idea perfetta del soggetto ma proprio davanti all'evidenziare le incertezze le paure le fragilità e tutto quanto accogliamo questa possibilità sai chi è un regista che secondo me questa roba l'aveva fatta però qua apriremo tutto un altro tema Wim Wenders cinema tedesco lui con Alice nelle città con Il cielo sopra Berlino fa proprio quest'operazione dobbiamo fare una live comunque su Wim Wenders o Erzo ho una scritta una roba lunghissima Manu Little TV scrive perché ha scritto l'inglese? no a me dice in italiano ah sì no perché poi ha scritto riporto ciò che ho trovato the title ah can't be for men no can't be for men vabbè ehm sì grazie Manu Little TV grazie Manu Little TV buona serata buona serata no la conosciamo è un nostro amico non lo faremo mai un amico è un tipo che ogni tanto becchiamo da qualche parte sta sempre su Twitch giocava un gioco tipo una roulette che non vi oh io ho portato un getto e vinci ma si può fare la roba in live sì certo che si può fare vabbè dopo lo facciamo lo facciamo alla fine della live dopo lo facciamo alla fine della live ma come sta arrivando? Harmony Corine una porta è aperta Harmony Corine figlio di Pasolini bella un nostro amico da Civitanova è venuto apposta a trovarci oh bellissima Civitanova ce l'ha già andato però ok meglio come la bellezza perché la gente deve mai fidarsi di uno di Civitanova se è Civitanova Marche eh sì è quella è quella brutta roba brutta gente veramente sono c'è qualcuno qui a Istradio però è il tipo che stava entrando ok è un amico di amici di amici di amici oh io ho una brutta storia io non posso andare a Civitanova Marche c'ho il daspo ah ok vabbè continua allora avete mai visto Kids di Larry Clark allora Kids praticamente Larry Clark fotografo va a vivere con questi skater di New York per un po' di tempo per fargli delle foto becca questo ragazzino di 16 anni di Nashville che stava a New York per skateare con loro che si chiamava Harmony Corrine e gli dice tu mi piaci sei un po' pazzo scrivi una sceneggiatura su te e i tuoi amici è quello che fate e Harmony Corrine scrive una roba tipo completamente fuori di testa con una serie di situazioni random e Larry Clark dice ok fico facciamolo ci aggiungiamo una roba narrativa che sarebbe l'HIV cioè praticamente il film parla solo di scopare cioè sono loro che skateano bevono fumano e dicono voglio scoparmi quella poi mi scopo quella tu quante tipa hai scopato e lui aggiunge questa cosa geniale semplicemente una telefonata all'inizio della tipa che scopre di avere l'HIV perché l'ha presa dal protagonista ma l'ho visto su film zio Kids di Larry Clark ma certo che l'ho visto e quindi tu hai per tutto il film questi qua che parlano di scopare è fuori di testa su film sì certo che l'ho visto ok il regista pazzesco zio ma l'ho visto un sacco di tempo a parte che questo film è pasoliniano per il modo in cui è stato fatto cioè già solo il fatto di far scrivere la sceneggiatura al tizio come lui che sceglie che l'operatore deve fare Gesù Cristo nel Vangelo secondo Matteo neanche l'operatore era tipo un elettricista era una figura una maestranza quella è una roba anche molto grifi che dice che il proletariato che prende l'elettricista e lo fa entrare in scena gli fa dire la dichiarazione d'amore e lo fa anche grifi stacolo pazzesco devo scoprire grifi ma solo un film di grifi è quello famoso che è Anna Anna e ti consiglio un'intervista poi magari la linko dopo che è molto bella l'intervista a grifi comunque Armoni Corini poi ha preso tutta una sua via in particolare Gummo un film pazzissimo rappresenta post uragano di Catrina comunque un uragano del sud americano non è proprio Catrina però in generale non è specificato è una città inventata mi sa e parla delle conseguenze comunque dell'uragano l'assenza dello Stato in qualche modo ovviamente tutto condito da tantissima droga però ti posso dire una cosa pazza secondo me il film più pasolignano di Armoni Corini è Spring Breakers ok anche Tre Shamper ora ti dico perché perché Spring Breakers è un film in cui Armoni Corini prende tre figure femminili che rappresentano Disney Channel si può dire Disney Channel cioè prende Vanessa Agence quella di High School Musical gli altri due dirlo così di nome Ashley Teasley Ashley Teasley Vanessa Agence e la terza è Serena Gomez no? esatto sì Serena Gomez quindi tre figure proprio del del pop pseudo educativo forse non è Serena Gomez non mi ricordo chi è la terza sì è quella bionda sempre di High School Musical no non è lei non è lei non mi ricordo chi è delle tre insomma prende tre figure che rappresentano Selina Gomez non mi ricordo comunque sicuramente c'è Vanessa Agence prende fondamentalmente tre figure femminili che rappresentano quel lato ancora quasi principesco pseudo etico no? dove la femminilità è ridotta a queste brave ragazze che devono fare queste robe in questo modo e le rende delle figure che vanno a uno spring break che è la classica tradizione americana eh sì però è sempre è vero le confondo sempre Ashley Ashley e prende James Franco che è un'altra figura controversissima dell'America che per un certo momento ha litigato con Seth Roga ha litigato con tutti per la roba che ha fatto dei casting però tu una volta mi hai proposto di fare non è vero non ti è cosa che non sono vero sto scherzando sembra che io però tu una volta mi hai detto facciamo un casting non è vero non è vero mi hai detto quando saremo famosi faremo ma siamo 14 anni e comunque credo che non sia vero comunque mi dissocio da questo possibile scenario sto scherzando si scherza comunque prende queste tre figure femminili che teoricamente dovrebbero essere le principessine quindi anche bidimensionalizzate a brave ragazze bla 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 prende James Franco che all'epoca era un riferimento del bravo ragazzo hollywoodiano e lì porta un erotismo totalmente afinalistico egoistico neanche davvero più esplicitato che è una roba pasolisiana non sicuramente nello stile non sicuramente nel tema non sicuramente nell'estetica però un po' nella finalità cioè la finalità è prendo la banalissima televisione come la chiamava Pasolini niente più pericoloso della banalissima televisione prendo quella edulcorazione educativa della televisione e mostro le perversioni che ci sono dietro quindi Pasoliniano in questo senso ovviamente ma sì ma alla fine bro vabbè Andrea alla fine l'importante non è il messaggio di Pasolini non è un unico messaggio perché un uomo non manda un solo messaggio un uomo come Gesù insegna che dà tantissime parabole tantissimi messaggi come tu prima mi hai insegnato su Gesù ricordandomi l'esempio della via crucis cioè alla fine un uomo durante una vita può dare un milione di messaggi potenzialmente poi sta a noi scegliere magari Harmony Corrine non sa nemmeno chi cazzo è Pasolini anzi ci mettono la mano sul fuoco sì no è ovvio che non è un film assolutamente ispirato a Pasolini però però allo stesso tempo quel messaggio magari ha ispirato qualcuno che ha fatto la pubblicità della coca cola in cui c'è il cowboy che spara lo squalo e quella cosa ha fatto pensare ad Harmony Corrine cazzo voglio ribellarmi al sistema non lo so sto andando a guardare io penso che i grandi intellettuali in qualche modo abbiano colto degli elementi proprio dell'inconscio collettivo dei sostrati sociali di una determinata epoca tale per cui ci sono autori da tutt'altra parte del mondo con tutt'altro stile con tutt'altra struttura narrativa con tutt'altra narrazione cinematografica che però in modo nell'altro sono collegati a questi grandi intellettuali non perché ne siano direttamente ispirati non perché ne facciano un uso estetico ma perché quei grandi intellettuali avevano capito delle cose che trascendono lo spazio del tempo e questo è Pasolini e tra l'altro poi la storia probabilmente dimenticherà dimenticherà le singole opere o comunque io non credo che rimarranno i film di Pasolini ma rimarrà il messaggio e la protesta rimarranno più le interviste e la morte e la morte soprattutto perché purtroppo come per altri artisti che sono morti in circostanze non chiare c'è sempre tutta una dietrologia tutto un universo che va poi a superare addirittura anche la fama stessa è il messaggio che l'artista voleva portare questo è anche un tema secondo me è un tema e possiamo anche prima parlavo Andrea Sciannimanico che salutiamo che sta qui grande Andre non conosceva Rino Gaetano vabbè poi in realtà lo conosceva quando gli ho detto il cielo è sempre più bello non era un fanatico di Rino Gaetano no però per dire Rino Gaetano però sapeva che era stato ucciso dai servizi segreti italiani non è vero però è vero che è stato ucciso dai servizi segreti non è vero non sto scherzando se i servizi segreti italiani ci stanno ascoltando hai mai visto quelle robe tipo se Google fosse una persona che quando vengono fatte certe ricerche compare tipo il tipo dell'FBI bellissimo te lo linko lo linko su YouTube sul Cuso Rosso sì zio la morte di Pasolini potremmo fare una live solo sulla morte di Pasolini ma no è difficile parlare della morte di Pasolini con un plastico tipo Bruno Vespa è difficile discutere della possibile veramente volontà di poteri forti usando parole un po' complottiste di eliminare una figura che aveva scritto di recente tra l'altro la cosa sul golpe sulla democrazia cristiana cioè parliamo di una società e di un'epoca dove l'Italia faceva dove le figure portanti dell'Italia politica facevano una serie di cose legittimati da un potere un po' un po' troppo lasciato alla sua libertà anche da una paura nei confronti di una forza straniera Pasolini è un sovversivo cioè Pasolini è una figura scomodissima in una città che tenta di educare a una democrazia orientata cioè una democrazia non davvero libera ma pur sempre coordinata all'interno di un sistema di valori deciso a tavolino Pasolini non piaceva nemmeno al pc Pasolini non piaceva ma lui lo odia il pc Pasolini è uno che a un certo punto ha detto la società dei consumi è riuscita in quello in cui il fascismo non è riuscito cioè omologare a se stessa tutta la società cioè lui è uno che ti diceva il capitalismo è il più grande fascismo di sempre comunque in quegli anni i poteri forti erano sicuramente autorizzati a fare quello che facevano e facevano perché comunque alcune cose sono ufficiali cioè nel senso a parte la strage di Piazza Fontana c'è pure il film che vi consiglio di Giordana che Marco Tullio Giordana che anche ha fatto il film su Pasolini tra l'altro lui è un regista che ha analizzato molto il discorso degli omicidi di Stato tra l'altro io ci feci gli esami di maturità sugli omicidi di Stato e il discorso è che bella grandi un saluto ai ragazzi di East Radio East Radio che ora non si faranno vedere quindi noi stiamo salutando il vuoto hanno fatto finta di non farsi vedere ma palesemente si sono visti potrei definirlo una performance pessima e adesso lui sta abusando del suo potere di farsi vedere va bene hai fatto abbastanza puoi andare è stato un piacere e una bellissima felpa Andrea molto piacere diventeremo grandi amici dopo questa bella bella Tommaso sei un grande stiamo parlando del senso del capitalismo fallimentare pasoliniano vai 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 alla prossima bella ma oggi mi sono assolutamente dimenticato cosa stavo dicendo cioè mi sono dimenticato volevo dire una cosa tutta colpa di Tommaso no ma me l'avevo dimenticato già prima in realtà probabilmente stava per dire la cosa più importante del ventunesimo secolo e tu l'hai interrotto e ora ti siedi anche va bene Tommaso tu sei una persona che ha una posizione nel mondo mi piace mi piace questo atteggiamento ma te siete in diretto o sono? siamo in diretto ciao io sono Tommaso Tommaso se io ti dico Pasolini a cosa pensi? Pasolini penso a scritti corsari penso con dei perso oltre all'altro il fatto che con dei perso mi fa sentire legittimato a rimetterlo bello eh sì era molto pasoliniano quindi conosci di cosa di cui stiamo parlando signor Tommaso qui le novelle di Boccaccio o la versione cinematografica di Pasolini in cui ci sono due ragazzi che vedono tutto i tratti nella loro comunità che fanno amore sull'interrazzo nella dimora direi e beh non so è una delle immagini che più collega a Pasolini e perché? le parme la vegetazione la libertà l'idea di di far vedere lo stesso corpo che vuoi nelle 120 giornate di Sodoma è assolutamente cioè è spregiato fino ad un certo punto perché poi come ben sapete ci sono tutti quei temi di Pasolini che ricorrono della della citazione del classico come la la pietà del Battolini quando c'è lei che deve mangiare le peci di uno dei suoi obbussini in 120 giornate di Sodoma però lo stesso concetto di corpo è anche ripreso nella trilogia della vita a me questo piace a questo punto ti pongo un tema che un po' è implicito nelle tue parole che è un tema di cui abbiamo già un po' parlato cioè sicuramente Pasolini è un autore che fa dell'eros una dimensione anarchica rispetto all'ethos cioè l'ethos soggettivo e sociale dell'Italia dell'epoca è un ethos contenitore contenitivo è un ethos che prova a comporre una società ordinata regolamentata eticamente indirizzata e quindi anche perversa perché come dicevamo prima la perversione sta lì dove le ombre non sono accettate e quindi diventano ombre Pasolini prende questa forma di ombrosità di una società che si finge regolamentata e la erotizza però quello che tu hai detto mi ha fatto pensare in realtà ne abbiamo già parlato mi ha fatto ripensare come l'eros in Pasolini è sempre simbolo è sempre elemento scandalizzante ma non per forza scandalizzante in un senso negativo e distruttivo cioè in Pasolini c'è già un inno alla vita erotica e non solo un inno alla morte dell'ethos attraverso l'eros sei d'accordo? vieni a dirlo qua vieni a dirlo qua mi viene in mente presentati guarda no più che altro parla vicino al microfono parlo vicino al microfono mi viene in mente soprattutto Medea quando nella Medea di Pasolini lei quando viene rapita da Giasone rapita in realtà non è rapita fa pezzi il fratello per scappare con Giasone quindi è una sua scelta completamente autonoma nella piena consapevolezza del suo erotismo per lui e viceversa e lei quando si ritrova a dover andare verso Crotone con Giasone e gli Argonauti dice una cosa particolarissima nella Medea di Pasolini dice voi non cercate un centro non ricercate un qualche cosa di fisso quando sbarcate quando toccate la terra ferma cioè il concetto di Mundus dei Romani quel qualche cosa per cui quando si cerca quando si quando si va a scovare quando si va a trovare quando si va a in qualche maniera a conquistare una terra straniera si scava un buco si scava un centro il Mundus perché questo Mundus deve essere lo specchio del cielo deve essere il nuovo centro di quel qualche cosa che ho conquistato e questo senso è riportato anche sul corpo in Pasolini secondo me cioè questa cosa per cui come dicevi tu l'eros cioè l'eros è contrapposto all'ethos sì cioè l'ethos è un qualche cosa che nei limiti in cui diventa dogmatico non è più un qualche cosa di sentito e un qualche cosa di autonomamente espresso per cui in quel senso diventa contrapposto all'eros non so se sono riuscito dico una roba velocissima ma non ne parleremo ti consiglio tantissimo un libro che si chiama Eros etos in Egele Kant di Vitiello che è un filosofo contemporaneo perché parla proprio di questo tema di come il problema dell'ethos rispetto a un ricongiungimento con l'eros sia forse uno dei più grandi problemi della contemporaneità però ora non possiamo parlare di questo che vuol dire etos etos in greco si rifà molto alla dimensione del costume del carattere della personalità del soggetto forse il primo autore che veramente usa bene etos è Foucault Michel Foucault che scrive un libro che si chiama Hermeneutica del soggetto nel quale lui si rende conto che nell'antica grecità il rapporto tra conoscere e conoscersi era una chiave fondamentale per capire perché si facesse filosofia cosa che nella modernità si è un po' persa perché la filosofia è un po' diventata teoria logica e ha un po' perso quella componente di epimele cosa che tu odi mi sa di capire la detesto perché la cura di sé che è una roba che soprattutto nell'epoca ellenica diventa chiave ma in realtà anche in soffri venuti autunno c'era una ragazza lui mi ha tirato fuori delle robe ho capito che con lui potrei parlare dell'alcibiade minore ma non faremo questa roba alcibiade aspetta cita quello che vuoi Tommaso nell'edipo re non so se vi ricordate tutte le scene girate nel camposanto di Pisa quello è diciamo così per Pasolini nell'edipo re la chiamiamo la coscienza umanistica dell'umanesimo in edipo per cui l'idea che ci sia potrebbe sostituirti a me occhio no mai cioè assolutamente no cioè l'idea che appunto ci sia un qualche cosa di puramente strutturato che si va a contrapporre rispetto a un a un a un istinto interiore però c'è da notare che l'ethos in quel caso l'ethos in questo senso di strutturazione culturale struttura culturale strutturazione culturale è immerso di luce è il camposanto è quest'idea di prato creazione creazione di un'architettura completamente bianca pura all'interno di un paesaggio inanimato però però puro e che però quindi cioè in Pasolini non è che c'è una gretta una gretta contrapposizione tra etos e eros cioè l'ethos nel momento in cui non diventa in maniera così borghese perché poi ovviamente esatto cioè parliamo di etos borghese moderno eh sì cioè diciamo parliamo di etos di quasi precattolico direi cristiano esatto perché diciamo che Pasolini quello che fa è suddividere tantissimo l'ethos in moris ed etica cioè il moris è quel qualche cosa di borghese che in qualche maniera così deformato deforme ci porta a tutta una serie di non vizi ma come dire far scendere la morte nella vita cioè il moris per Pasolini borghese è quel qualche cosa che mischia la morte con la vita ed è insomma ed è da evitare invece la morte è in vita no Salò è quello cioè la morte è in vita il non riuscire a dividere il bello dal brutto cioè detto detto proprio a colpi d'accetta e invece poi appunto in Edipo Re ad esempio hai quest'idea di etica anche in Medea ce l'hai la purezza del del costume la purezza della morale la purezza del sentirsi sentirsi un tutt'uno con l'eros perché è come se come se ci fosse il moris da una parte l'etica che poi va a baciare l'eros cioè sono però è una sono d'accordissimo ma facciamo una conferenza su su Pasolini è un grande e fate voi due un bel talk io concludo concludo qua perché sennò diventa pesante sta roba però grazie no no però concludo dicendoti sono d'accordo però ti pongo un'ultima provocazione è una un'etica anarchica non so ti ho letto Levinas che è un bel filosofo che parla di questo cioè l'unica etica che non cade nel mores non cade nel costrutto categorizzante razionalizzante di una certa atteggiamento occidentalissimo è l'etica anarchica ma anarchica non nel senso di distruttivo disordinato anarchica nel senso di pre-archica cioè di prima dell'arche di prima del tentativo di regolamentare dell'entificazione dell'ente direbbe Heidegger finirà malissimo questa conversazione quindi secondo me mi piace mi piace la parola anarchica il tema pasoliniano è che quella medea quelle di ipo che sono figure che lui ricontestualizza ma allo stesso tempo attemporalizza e quindi si concede di attemporalizzare il suo contemporaneo come i coen in fratello dove sei che però non è ragione che secondo me è il paradosso più bello di Pasolini di quando prende il mito che si concede la temporalità contestualizzandola contemporaneandola ma allo stesso tempo non temporalizzandola e di proporre una morale anarchica in una forma di affidamento a quella condizione primordiale del soggetto davanti al bello della calo cagazzia come la vogliamo chiamare calo cagazzia del bello e buono calos cagatossi no ma lui ha fatto il classico ma l'ho mai sentito io stavo alla sua discussione del liceo che faceva che leggeva Sofocle in greco è stato uno dei momenti più belli della mia vita lui che legge dal greco e poi dice è come la luna va in eclisse così il corpo dell'uomo diventa miserabile una cosa del genere come era il tuo collegamento tra scienza e così come la luna oscura il sole durante un'eclissi solare durante una dittatura viene oscurato il pensiero libero questo era il collegamento tra fisica e storia per passare a genio genio bellissimo quindi sì secondo me sono d'accordo con te il tema è però che appunto è il costume nel suo senso anarchico cioè anarchico come te l'ho descritto ovviamente il problema appunto è che anche quello che sente Pasolini è il fatto che l'anarchico non può essere cioè il grande non fila rouge ma la grande tensione che c'è sempre e c'è nel pensiero anarchico stesso è che l'anarchico non può essere strutturato e quindi nel momento in cui devi strutturare una civiltà devi strutturare un vivere comune devi in qualche maniera fare dei compromessi col tuo pensiero anarchico e per questo che poi hai Edipo Re hai idea che sono dei personaggi sono dei miti borderline perché perché non potranno mai fare effettivamente parte di una struttura civile almeno come la concepiamo noi come come la concepisce la logica perché poi noi facciamo parte di una logica aristotelica una logica che dura da migliaia di anni per cui in realtà è impossibile con la stessa logica come ad esempio banalmente dice Gödel nel momento in cui nel momento in cui nel momento in cui che non è Goet no è Goet nel momento in cui esatto cioè nel momento in cui cerchi di destrutturare per forza cerchi di scultura quando cerchi di destrutturare il pensiero con gli elementi ma secondo me lui è tipo l'uomo dell'alba non esiste veramente dicendo quando cerchi di destrutturare un qualche cosa con gli elementi che già possiedi non riesci non riesci mai ad uscirne è detta malissimo esatto esatto banalmente questa roba qua e quindi è molto simile tornando al discorso cinematografico che però secondo me possiamo collegare secondo me i genitori di Pasolini cinematograficamente il neorealismo ok non sono io a inventarmi sta cosa ma forse Ungaretti comunque lui dice di fare un iperrealismo quindi andare a poi in realtà va a prendere il mitrogeco e va tutto in un altro sentiero che infatti è più distante da me io preferisco il cinema tipo a Cattone Mamma Roma il primo periodo di Pasolini alla Medea o il Decameron perché è un po' più distante anche se ho fatto il classico ho preso 69 alla maturità quindi non l'ho fatto così bene Decameron è realista cioè Decameron no no ma ovvio che lui secondo me c'è una differenza cioè io penso che il tema sia e me l'ha fatto pensare anche il nostro buon amico Tommaso cioè rispetto a quello che dicevamo anche prima con Fede si discuteva sul fatto che la dimensione pasoliniana è comunque una dimensione antitetica cioè decostruire e svelare una condizione di menzogne borghesi eccetera eccetera non mi ripeto il primo Pasolini è quel Pasolini che adotta Roma come siamo detti come tanti intellettuali dell'epoca e che in qualche modo ha bisogno di un iperrealismo nel limite in cui questo iperrealismo rimane ancora una forma di contemporaneità assoluta decostruente cioè nel momento in cui l'Italia fa il 18% in più di PIL io ti racconto non il proletariato perché il proletariato fa parte di quella società ma il sottoproletariato che non ne fa parte successivamente io con il mito posso fare un'operazione successiva posso fare un'operazione ancora più complessa posso comunque contemporaneizzare ma allo stesso tempo a temporalizzare cioè riporto i miti del contemporaneo ma le figure del mito non sono l'accattone ma sono i miti stessi quindi porto il mito ad oggi ma uso il mito per non vincolarmi alle figure dell'oggi pur parlando dell'oggi che sembra una roba un po' una supercazzola ma giuro che credo abbia un senso e cosa faccio propongo uno scenario per quello prima dicevo anarchico cioè in una lotta dialettica tra un'imposizione etica nel senso di etos e una risposta erotica nel senso di perverso di scandalo perché l'eros non ha il suo spazio legittimato e quindi diventa scandalo quindi etico anche un po' conservatore cattolico sì etico nel senso di imposizione di un moris come dicevo io di un moris borghese eccetera 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 io propongo una possibilità salvifica che non è di questo tempo è di prima del tempo stesso perché poi il mito è di per sé ciò che è prima del tempo nel senso di tempo logico nel senso di tempo fisico lui citava aristotelo è un po' quello il senso quindi quella parte mitologica di fasolini è un tentativo di andare a individuare nella contemporaneità attraverso figure atemporali ancora quella possibilità di bellezza senza scopo per dire alla Kant di scenario di salvezza di aulico ma non aulico all'interno della dialettica ma prima e dopo essa e dunque al di fuori Tommaso vuoi aggiungere qualcosa l'unica cosa è che allora su questa cosa della dialettica del prima e dopo fuori mi trovi d'accordissimo nel senso che appunto lui poi prende dei miti che sono prima del pensiero classico quindi sì sono d'accordissimo l'unica cosa è che secondo me come dicevi tu quando lui cerca di in qualche maniera identificare il pensiero o l'azione sottoproletaria in realtà nell'andare ad analizzare i miti la cosa siccome illuminante è che interpretandoli in maniera ultra filologica cioè riesce a disporre un qualche cosa un tema che rimane immutato da millenni cioè l'idea e vi porrei per carità le azioni sono magari ovviamente non confacenti alla contemporaneità nel senso i miti di Medea il i riti che va a visualizzare non sono non sono contemporanei ma l'idea cioè quel qualche cosa il tema il tema alla base dell'opera sì cioè è contemporaneo anche le di porrei certo quindi va come diceva come diceva lui va prima del classico ma lo supera riportandolo in un'epoca contemporanea rimanendo ultra filologico nella lettura del tema cioè nella lettura del mito cioè è pazzesco e poi un'altra cosa che adesso ciao ciao figure che se ne sta andando dopo aver detto permesso permesso ciao ciao ragazzi ciao a tutti ciao scusate non volevo interrompere non ti preoccupare è ora di qualcosa però devi andare in bagno vai vai certo posso pure l'unica cosa che mi viene un'altra cosa che mi viene in mente sempre con questo concetto di di accettare o meno il rito in in senso preclassico ma allo stesso cioè non tanto appunto cioè la concezione il tema di dire accetto o non accetto il rito preclassico mi viene in mente un altro esempio cinematografico che è il rito di Bergman dove il giudice che deve in qualche maniera decretare la 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 pena a questi attori che nel loro spettacolo mettono in scena un rito un rito ancestrale un rito completamente destrutturato da ogni logica un rito un rito fertile un rito dedicato alla luna poi lui nel suo giudizio praticamente viene colto da un infarto e muore mi spiace per lo spoiler però cioè il senso è molto simile a quello pasolignano in questo film di Bergman per cui in realtà la contemporaneità proprio non riesce a la contemporaneità borghese quella quella sfera borghese del pensiero del morse non riesce mai ad accettare nell'antico nel contemporaneo nel moderno soprattutto quando esso si rifà a un qualche cosa che non ha a che fare con una logica strutturata non riesce assolutamente ad accettarlo e venire in qualche maniera in contatto con questo pensiero che rifacendomi alle tue parole è un pensiero di fatto anarchico Pasolini 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 questo signore si chiama Pasolini no in arte si chiama Pasolini no sono i Selton grandi berri mix la colonna sonora di questo podcast grazie io vi lascio si tu vado ad ora chiudiamo ci beviamo una birra mi sto andando a casa no no ti rivederò settimana prossima giovedì qua parleremo di si può dire possiamo dirlo di che parliamo di di Poltoma Sandus ah certo parliamo di Poltoma Sandus allora mi preparo preparati però è meglio non prepararsi no no guardarsi i film preparato è archico se non hai visto i film è meglio guardarli perché è importante faccio una settimana di full immersion ok e rispondi a questa io ti do una domanda Poltoma Sandus rappresenta il mito di Sissipo di Camus cioè proprio come persona lui rappresenta il mito di Sissipo no il suo cinema ah ok il suo cinema rappresenta il mito di Sissipo di Camus questa è la domanda che io ti porrò Sissipo è quello che l'aquila gli mangia il fegato no quello è Sissipo quello che spinge la piedra però nella versione di Camus che ovviamente ha tutta una sua lettura poi ne parliamo risponderai a questa domanda io mi sento a metà da stupido è come quando parlano di anime grazie mi sento un outsider ma no zio ma tu sei il cuore pulsante di questo podcast ma Pasolini faceva il cinema per me perché gente come me capisse cose che state dicendo gente come voi sì sì ma per lui il medium del nazionale dopo un'ora io Pasolini io capire io capire our buck mimesis qui ma stavo per dire our buck eh vabbè eh vabbè beh ragazzi è stata una bella live in realtà mi sai che mi aspettavo peggio è stata una gran live mi aspettavo di rompermi i coglioni invece invece ti sei divertito mi sono divertito abbiamo scoperto cose sì non abbiamo parlato di covid perché avrei potuto parlare cosa c'entrava con la nostra live beh in qualche modo c'entrava dici tu c'entra sempre a questo punto ringraziamo Francesca perché senza Francesca noi non saremmo qui grazie Francesca puoi raccontarti se noi ci diciamo Pasolini tu a cosa pensi sponsorizzato da chi perché ah da Est Francesca la prima parola che ti viene in mente se io dico Pasolini non ci pensare la P genio grazie e buona live a tutti che è finita la P di parcheggio ciao Francesca pp di Pierpaolo Pasolini sì sì Pierpaolo Pasolini ha senso grazie Francesca grazie no 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 hai chiuso perfettamente questa live tu sei una figlia di Pasolini come tutti noi Pasolini 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 Pasolini